Il percorso di un'impresa non è mai facile, ma anche le sfide più impegnative diventano semplici se si affrontano avendo al proprio fianco un alleato affidabile e concreto su cui contare. Noi di Win3 Business, che della vicinanza abbiamo fatto la nostra missione, sappiamo essere un partner capace di accompagnare e supportare aziende e pubbliche amministrazioni verso lo sviluppo digitale, in un'ottica sostenibile e inclusiva. La nostra ambizione è rispondere ai diversi bisogni che rendono unico ogni business. con soluzioni precise e su misura. E sappiamo farlo, perché abbiamo l'expertise di un grande gruppo internazionale come C.K. Hutchinson, che ci rende una realtà solida e credibile sul mercato italiano e su quello internazionale. Siamo accanto a ogni azienda per metterle a disposizione il meglio delle nostre soluzioni e della nostra tecnologia. Quando si rendono necessarie soluzioni digitali end-to-end, moderne e personalizzate o servizi forniti con un approccio a 360 gradi. Quando è richiesta una connettività evoluta con la nostra soluzione di SD-WAN o di Fixed Wireless Access nelle zone in cui la fibra non è disponibile. Quando ha bisogno di protezione con soluzioni di cyber security, monitoraggio costante infrastrutturale e perimetrale e misure di sicurezza per migliorare la security posture del cliente. Quando necessita di servizi di data center sicuri, moderni e tecnologicamente avanzati, gestiti da personale altamente qualificato, per gestire i dati e applicativi in cloud. Quando occorrono servizi gestiti, capaci di sovrintendere le infrastrutture tecnologiche in modo completo e flessibile. Quando ha bisogno dei migliori servizi 5G, come la Mobile Private Network, che abilita nuove applicazioni e supporta servizi business critical delle aziende, in diversi ambiti e contesti, o di sfruttare il download dei dati in tempo reale manovrando droni da remoto. Anche quando si parla di Vertical IoT e di Smart Cities, noi ci siamo. Sempre. Ovunque. Grazie anche a un network di partnership best in class, che consentono di assicurare una digitalizzazione capillare su tutto il territorio. Tutto questo ci rende unici. Come unico è il percorso che possiamo fare insieme. Win3 Business. Molto più vicini a te e alla tua azienda.